Sì, è giusto, giusto, giustissimo, ma stavo dicendo io poi faccio così, sto lì, non faccio niente, faccio fare tutto all'interno. Ma se schiacci si ferma qua, il federale. Poi è anche speciale, non c'è una possibilità, allora bisogna dirlo quando salva. Perché ho mangiato una caramella? Non è buona, però è buona. No, 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 no. Grazie a tutti. Grazie a tutti